È bellissimo un po' su. Non si potrebbe desiderare un palcoscenico più adatto. Ma non ci sono strumenti qui. Le tue capacità di osservazione ancora una volta si comportano bene. Ma aspetta, è a Madame Giustizia che dedico questo concerto in onore della vacanza che sembra aver preso da questi luoghi e per riconoscenza l'impostore che siede al suo posto. Dimmi, che giorno è oggi, Evie? Ehm, il 4 novembre. Non più ormai. Ricorda per sempre il 5 novembre, il giorno della congiura delle polveri contro il Parlamento. Non vedo perché di questo complotto nel tempo il ricordo andrebbe interrotto. Prima l'ouverture. Sì, sì, gli archi. Ascolta attentamente, la senti? Ora gli ottoni. La sento. Guarda fuori, mamma. Facciamo musica. Ma com'è il fatto? Aspetta, arriva il crescente. È bellissimo, non è vero? Allora, a chi? Gabora! Allora... farmata, ovora... Allora... Affiliate il spermismo. ... Allora... Allora... Dove come... Lo sp livesivo. Qu confirmation o do for a elas... Quoi cosa su efficace? Tant'aliffo... Grazie a tutti.